Ciao a tutti, in questo video voglio parlare della magia mentale, dei fondamenti della magia mentale, che cos'è la magia mentale, come si può utilizzare. Allora, il primo termine magia è un termine persiano, da mag deriva mag, la parola persiana che significa sacerdote. I sacerdoti persiani infatti erano operatori di miracoli, utilizzavano ciò che la natura metteva a disposizione per trasformarla in qualcos'altro. Da questo deriva appunto il termine magi. I magi, diciamo, fanno parte della casta appunto sacerdotale. Il culto dei magi era il culto di Zoroastro, che rappresentava il centro dell'antico occultismo. I tre magi che comparirono al momento della nascita di Gesù, secondo Matteo erano noti come magi appunto sapienti, che provenivano dall'Oriente. Questo termine, magi, deriva dalla parola magia, che è la scienza occulta che si pensava fosse posseduta dai magi, che rifletteva, riflette comunque, le forze oscure, le forze nascoste della natura. Infatti col termine magia mentale si utilizza qualcosa di più. Significa utilizzare le forze occulte della natura attraverso la nostra mente. Le forze occulte della natura cosa sono? Sono delle forze, delle forze quindi a livello di energia, di per sé mentali, cioè possono essere controllate e utilizzate dalla nostra mente. La nostra mente ha la capacità di utilizzare quelli che sono i flussi energetici della natura e di indirizzarli, dominare il controllo, diciamo, della natura stessa e innescarli attraverso degli antichi cerimoniali. Quindi è l'atto di volontà, l'atto fondamentale che prende spunto, diciamo così, dalla magia di natura cerimoniale per utilizzare le forze presenti in natura. Come si utilizzano queste forze presenti in natura? Le forze presenti in natura intanto sono forze sincroniche, cioè che sono collegate molto spesso alla legge dell'attrazione. Sul pianeta esistono delle linee sincroniche, linee dove passano delle informazioni e che collegano praticamente tra loro, per entanglement, tutti gli abitanti del pianeta. Ora, la magia è la capacità di utilizzare elementi della natura a livello simbolico che possano, diciamo, essere, che possano influenzare le persone verso le quali si vuole effettuare la magia. Ad esempio, nella magia nera, chi volesse effettuare una fattura a morte che è una cosa negativa, che ha un ritorno, un colpo di ritorno carmico molto forte. Quindi chi utilizza il mago nero che utilizza queste fatture, queste fatture lanciando fondamentalmente queste maledizioni, ne avrà poi un ritorno comunque notevole dal punto di vista carmico, perché sappiamo che dal punto di vista carmico viene tutto amplificato. Ma che metodi utilizza? Beh, utilizza, intanto ci deve essere un'intenzione, poi dipende se è il mago che è lui stesso o l'intenzione la mette al cliente. Normalmente l'intenzione la mette chi si rivolge al mago. È lui che ha l'interesse, almeno che il mago non lo faccia direttamente, ma normalmente il mago utilizza semplicemente degli strumenti fisici che catalizzano energie, ma l'intenzione che la vera energia, quindi in questo caso è un'intenzione negativa verso una persona ce l'ha normalmente chi ha qualche interesse, insomma. Beh, queste forme di legame sono anche i legamenti, ad esempio i legamenti si possono utilizzare. Il legamento d'amore vuol dire legare una persona a te, anche in questo caso l'intenzione di legare una persona normalmente non c'è l'ammargo, ma c'è la persona che vuole fare il legamento. E' ovvio che spesso c'è chi vuole fare sia legamento d'amore se non va a buon fine fattura di morte. Non è possibile farli entrambi contemporaneamente perché la fattura di morte va a escludere l'altro. Due intenzioni completamente opposte prevale l'intenzione negativa e quindi non è possibile effettuare questo. Quindi come si utilizzano gli strumenti della natura? Beh, a livello simbolico. Nei legamenti si utilizzeranno dei legami quindi delle cose che legano. Serve una rappresentazione della persona verso la quale si vuole fare il legame di legamento, ad esempio. Una rappresentazione può essere una fotografia. Meglio se c'è anche qualche oggetto personale tipo una ciocca dei capelli su tutto questo serve per costruire quello che viene chiamato il feticcio che è una rappresentazione simbolica di quella persona e lì poi si effettuerà il legamento ad esempio se la persona vuole che vuole effettuare il legamento dovrà realizzare questo in questo caso anche lo farà il mago tra virgolette un altro feticcio e i due fetici saranno comunque legati assieme legati proprio fisicamente assieme. Poi vi ne sono diverse tipologie insomma però c'è sempre una parte ritualistica e la parte ritualistica è legata alla diciamo alla creazione di feticci o cose di questo genere che possono in qualche modo simulare nel modo migliore possibile la persona verso la quale si vuole indirizzare la magia indirizzare l'operato e si utilizzano poi altri elementi presenti in natura che hanno la funzione di catalizzare che cosa l'energia mentale che ha la persona quindi tutte le forme di energia di magia sono di fatto magia mentale anche se utilizzano altri strumenti insomma la magia può anche essere utilizzata per inviare fortunatamente c'è questa possibilità anzi dovrebbe essere usata solo per questo inviare energie positive energie che ricaricano anche qua ci deve essere un'intenzione positiva da emanare verso una persona che questa intenzione positiva viene canalizzata attraverso anche qua dei rituali il rituale è la vera abilità del mago di creare un rituale che possa attirare le forze e le energie della natura è un qualcosa che piano piano si impara bene per questo video è tutto iscrivetevi al canale seguiti i maghi sulla pagina instagram Massimo Terramasco iscrivetevi al mio nuovo canale youtube di cui vi posto il link in descrizione felicità e benessere ciao